Buongiorno FTI Online, partenza positiva questa mattina per la borsa, il nostro Fuzzimib in questo momento guadagna l'1,6% circa, siamo a 16.893 punti, a avvantaggiarsi della situazione positiva sono principalmente i titoli bancari, tra questi Unicredit il rialzo del 2% circa, Unicredit che pesa quasi per il 10% nell'ambito dell'indice Fuzzimib e quindi le sue oscillazioni sono decisamente significative anche per l'intonazione generale di mercato. Il rialzo di oggi intorno ai 2,20 Euro ha superato una resistenza significativa che è il limite superiore della fase laterale disegnata dal 6 dicembre, posto a 2,18 Euro, quindi abbiamo un primo segnale di forza che ovviamente dovrà poi essere confermato oggi in chiusura di seduta, ma se ciò dovesse avvenire avremmo una possibilità di vedere stendere il rialzo con un primo target sul lato superiore del gap ribassista del 12 settembre posizionato a 2,32 Euro e successivamente avremo la possibilità anche di andare a testare quelli che sono stati i massimi del mese di settembre posti a 2,41 Euro, indipendentemente dalle prospettive di breve termine, notiamo che il titolo ha disegnato nel corso degli ultimi mesi una fase laterale, se andiamo a studiare queste oscillazioni con una retta di regressione lineare, ci accorgiamo che questa è sostanzialmente orizzontale, abbiamo quindi una base che potrebbe diventare un trampolino per un tentativo di rimbalzo di ampiezza ben superiore rispetto a quella che è stata ipotizzata fino adesso, quindi fino a 2,40 Euro circa, infatti la fase laterale può essere vista come una fase di accumulo di forza e di volatilità che viene liberata nel momento in cui si interrompe uno dei due estremi, nel caso di Unicredit la rottura della parte alta di questo trading range, quindi superamento di area 2,40 Euro, potrebbe lasciare spazio a una correzione di tutto il ribasso che c'è stato dai massimi nello scorso anno, con obiettivi che vanno dai 2,85 Euro ai 3,60 Euro, rispettivamente 23,6% e 38,2% di ritracciamento del ribasso dell'ultimo anno. Una situazione questa che potrebbe deteriorarsi solo in caso di una violazione della fase laterale delle ultime sedute, quindi solo in caso di discesa di sotto 2,05 Euro, in quel caso avremo un supporto molto solido posizionato già intorno a area 1,95 Euro. Dicevamo dell'importanza di Unicredit per il mercato nel suo complesso, se andiamo a sovrapporre infatti il grafico del titolo con quello del Fuzzimib, ci accorgiamo che ci sono delle similitudini molto evidenti, in termini di punti di svolta ovviamente questi sono coincidenti, ma anche in termini di ampiezza di movimento, quindi i segnali positivi che si sta registrando Unicredit e del resto si riflettono anche sul grafico del Fuzzimib, se guardiamo questo in dettaglio ci accorgiamo che con il rialzo di oggi è stato superato il lato alto di questo test a spalle rialzista che si è disegnato dai minimi del 16 settembre, una figura che potrebbe fornire lo spunto per un test di quelli che sono stati i massimi del mese di settembre a 17.400 punti circa e oltre quei livelli diverrebbe plausibile il test della parte alta del canale crescente che i prezzi stanno cercando di disegnare dai minimi del mese di giugno, una resistenza che si pone attualmente intorno ai 17.830 punti, solo se dovessimo ritornare al di sotto di area 16.500 ci sarebbe il rischio di un movimento nella parte bassa del canale che abbiamo disegnato, quindi di un test di area 16.070, ma riteniamo che i movimenti visti oggi siano di buon auspicio per un movimento verso 17.500, 18.000 punti almeno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero, grazie.